Ciao amici miei, buonasera, faccio questo video che caricherò un po' sui diversi social per aggiornarvi un pochino della situazione, oggi ho avuto l'incontro al centro di salute mentale con la mia psichiatra, la mia infermiera e la mia assistente sociale e si stanno muovendo per questo discorso della luce, per farmi riattivare e ok, quindi questa cosa diciamo che verrà risolta non in tempi brevissimi ma forse la prossima settimana e quindi forse qualcosa si muove poi vabbè ci stanno altre cose che praticamente lo dico, non credo che ci siamo da vergognarsi una volta che verranno pagare se bollette mi riattivano la luce mi manderanno qualcuno per fare dei lavori, almeno per vivere dignitosamente in questo garage fino a che non mi danno la casa popolare e quindi verranno appunto a fare pulizie e a sistemare muri, cose, pitture e quant'altro, l'impianto elettrico che va bene e in più due volte a settimana verrà a trovarmi appunto, mi assegneranno un assistente sociale che verrà a trovarmi due volte a settimana per vedere come sto, perché purtroppo non sto bene nel suo periodo per il lutto e per altre cose diciamo che sono molto demotivato per il discorso dello shop perché speravo speravo di mettere in atto il mio progetto ma così non si fa quindi comunque il negozio molto probabilmente lo chiudo, non subito però era, boh ci contavo tanto su sta cosa, però ragazzi non ho i soldi per fare la pubblicità perché è quella che bisogna fare sui social che mi devo dire, c'è chi mi supporta, chi ha comprato, però boh non lo so, sto molto demotivato e infatti non sto inserendo neanche nuovi prodotti, infatti perché ce li ho fatti, sto aspettando un pacco da temo che ho fatto un ordine gratuitamente grazie a voi e c'è del materiale che mi sarebbe finire le cose e fare tanti bracciali, quelli li farò come vediamo, però boh non lo so, sto un po' demotivato ragazzi, però c'è da dire che comunque chi mi segue dalle varie strutture stanno cercando la soluzione, la faccio quest'altro pezzo per youtube perché non c'ho, non c'ho limite appunto di registrazione, c'è Britti qui, no nulla stavo dicendo che raga io ero sto molto demotivato, stasera sto parecchio giù, non si trova un cavolo di lavoro, non si riesce a vivere dignitosamente e non voglio più, non voglio più mettermi a fare le collette che poi paradossalmente riuscivate ad aiutarmi più quando facevo le collette che adesso che vendo prodotti creati con le mie mani poi sui quali ci ho perso tanto tempo, però è stato tempo ben speso perché la maggior parte delle creazioni le ho fatte in questo periodo di down per il lutto ecco, quindi non lo so, sto un po' così, sto fermo, non c'ho tante altre cose da finire da mettere nello shop, ma anche però non lo so raga io pensavo di riuscire questa cosa, vabbè sto demotivato comunque, non mi va di raccontare tutto nel dettaglio e di fare pietismo perché non è quello che voglio, però le difficoltà sono tante, la maggior parte non le sto dicendo, magari anche quelle dei beni primari ecco diciamo così, quindi boh non lo so, non lo so io speravo con i social riuscissi a fare qualcosa insomma, riuscissi a vendere queste creazioni, per poi far partire ormai comunque non quest'anno, l'anno prossimo quello che volevo far partire, intanto aspettiamo che si sistemino le cose più importanti, tipo la luce, qualcuno che mi sta appresso, perché non ci sto proprio più adesso, non sto bene, nonostante questo che sto a cercare lavoro, ma io sono convinto di non essere adesso in grado di iniziare un lavoro, ma se mi capita mi ci butto lo stesso ecco, vabbè scusate ho voluto condividere sto attimo di down con voi, buonanotte a tutti